Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it Grandissima soddisfazione, una vittoria per noi molto importante, una vittoria in trasferta che arriva al culmine di un girone d'andata, quindi sperata, cercata. Alla fine di una settimana che, come avevo detto nel pre-partita, non c'eravamo arrivati dal punto di vista delle condizioni nel migliore dei modi, però che chiudiamo con due vittorie su tre. Per noi, per la nostra classifica, ma soprattutto per il nostro morale, perché spero che oggi, oltre ai due punti che chiaramente sono importanti, questa partita deve darci la carica, deve darci la convinzione che quando giochiamo con attenzione, quando giochiamo consapevoli delle nostre qualità, ma soprattutto dei nostri limiti, possiamo essere una squadra che può competere. Una partita che abbiamo approcciato benissimo, che forse non siamo riusciti a prendere un immediato vantaggio, però poi nel corso della gara ero più 18 al terzo quarto. Peccato forse più 15 a 5 minuti alla fine, forse peccato per la gestione di quei 5 minuti finali che ci hanno un po' spaventato, però lì secondo me è stato innanzitutto molto bravo Parks ad accendersi, Pargo anche nei minuti precedenti. Forse noi abbiamo anche un po' paura di vincere, perché chiaramente quando non lo fa in trasferto tanto tempo, probabilmente un po' è scattata anche la paura, però devo dire, con i tiri liberi finali, con le gestioni degli ultimi possessi, abbiamo dimostrato che volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuto. Non mi piace mai parlare dei singoli, oggi Duram è stato molto bravo, credo che ognuno, come spesso accade, poi ognuno ha contribuito. In una settimana tra l'altro due e tre partite per noi non abituati non è neanche stato semplice, però ognuno ha contribuito alla vittoria ed è quello che più mi rende felice. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it